Varchi elettronici, il conto alla rovescia sta per esaurirsi. Dal 3 giugno si accenderà il sistema che sarà in funzione 24 ore su 24 agli ingressi di piazza Sant'Agostino, via Ricasoli, via Guizelmi, via Bartolini, via San Jacopo e via Tintori. Fino al 3 luglio saranno gli agenti della Polizia Municipale a controllare i varchi, poi dal 3 luglio saranno attivate le telecamere. La indicazione ministeriale che è propedeutica poi all'accensione in automatico dei varchi, cosa che avverrà il 3 luglio, prevede che il personale sul posto provveda a sanzionare i veicoli in transito abusivo esattamente come se fosse acceso il varco. Quindi, ove possibile si procederà a contestare, nella maggior parte dei casi, anche per la ristrettezza dei luoghi che non consentono di fermare i veicoli e bisognerà rilevare le infrazioni a targa. Multa di 81 euro che si riduce del 30% se pagata entro 5 giorni. Si inizia, finalmente anche perché almeno vedremo in azione questi varchi e cercheremo di capirne le potenzialità, i difetti e tutto quello che ci sarà da sistemare. Oltre 7.500 i potenziali utenti della ZTL, per la precisione 7.570. Saranno in funzione 24 ore su 24, come molte altre città italiane simili a Prato, abbiamo fatto un elenco piuttosto lungo delle città che hanno l'H24, è norma. D'altronde non abbiamo un'area pedonale a Prato, ricordiamoci che l'unica area pedonale di Prato è il piazza Santa Maria delle Carci. L'estensione della ZTL non cambia ma arrivano novità. Il transito alle categorie 1, 3A, 4A, 6, 8A, 13 e 15 è consentito 24 ore su 24. La categoria 4 potrà circolare dalle 7 alle 10 e dalle 12 e 30 alle 15 e 30. La categoria 63 dalle 20 alle 10 e dalle 12 e 30 alle 15 e 30. La sosta è consentita alle categorie autorizzate negli spazi e negli orari specificati dalla segnaletica. Motocicli e ciclomotori possono transitare solo se provvisti di permesso 6. Per i permessi invalidi invece ogni targa è associata a un contrassegno e dunque se l'invalido entra in centro con un veicolo diverso deve comunicarlo a SGM.